Raffaello Tonon, uscito dal Grande Fratello a Tele Lombardia con Marco Liva, bello come il sole, magro come pochi, elegantissimo. Ti ha fatto dimagherire, Grande Fratello? Io sono dimagherito là dentro. Ma quanto ci hai fatto ridere, ma quanto abbiamo pianto, ma sai che io piangevo? Pianto, rida. Ma piangevi come un disperato. Io piangevo, sembravo fuori di testa. E noi con te. Tutti a piangere, poi tutti a ridere, poi tutti a piangere. Non che ti vengono degli attacchi di tristezza. L'importante è che adesso stai allegro, Raffaello. Sempre allegro. Sempre allegro. Però siamo pronti, Raffaello, ti seguiremo comunque. Avanti. Saluta Novella 2000. Ciao, ciao Novella 2000. Ciao Direttore. Ciao Novella 2000. Ciao Direttore. Ciao.